Eccoci qua con il grande artista Alessio Alessio, cosa ci racconti di questo grande intervento che tu hai venuto a Casale? È una bella sorpresa e poi sicuramente ci saranno tante canzoni qualche canzone nuova, sicuramente un disco nuovo Solo tu sarai che uscirà giugno, non è una bella cosa Quindi mi hai anticipato già la domanda che volevo farti Ah già mi dovevi fare questa domanda? Eh sì perché noi già sapevamo questa cosa però Sì sì ci sarà questo disco nuovo che abbiamo stampato distribuzione a Roma, è una cosa nazionale bellissima che oggi sono andato proprio a fare il video di Solo tu sarai che uscirà penso a fine mese Va bene quindi noi siamo Cdp Television se magari ci saluti tutti i nostri telespettatori Un bacio da parte mia e seguite questa trasmissione perché è valida Ok? Grazie e un saluto a tutti Grazie a tutti